E' un sorriso di qua, Eva! Eva Enger, oggi conosciuta per i ruoli brillanti al cinema e in televisione, ha iniziato la sua carriera come modella a sole 17 anni. Nel suo nuovo film si è calata nei panni di una moglie tradita che decide di lasciare il marito. Sullo schermo recita oltre a lei anche sua figlia, Mercedes Enger, che le somiglia moltissimo. Eva è in un momento molto felice della sua vita, aspetta infatti un figlio dal compagno, il produttore Massimiliano Caroletti. Io vivo una bellissima storia con mio compagno, perciò infelicità ancora non c'è. Nel passato ho avuto qualche crisi, qualche momento brutto con altri matrimoni, però io sono rimasta sempre in buonissimo rapporto con mio ex marito, per esempio con Riccardo. Ci vogliamo molto bene, perciò di grandi litigate non ho mai avuto nella mia vita. Qual è il segreto per restare amici? Il segreto secondo me è essere intelligenti, perché se una persona voleva tanto bene un'altra persona, lo amava, c'era qualche motivo. Non trovo poi giusto che con tempo dobbiamo strillare contro dire delle cose bruttissime e cancellare completamente i bei ricordi. Io preferisco ricordare tutte le cose belle passate insieme e cancellare quelle brutte. Ciao Gossip News! Ciao! 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 Grazie a tutti